Ciao a tutti, sono Luca Gattel, sono un barbiere italiano, vengo da Orbetello, un piccolo paese della provincia di Grosseto, in Toscana. Ho scoperto il metodo Michela Ferracuti già da qualche anno e come l'ho scoperto? L'ho scoperto facendomi una domanda quando il mio lavoro non funzionava, quando il mio lavoro andava male e andava sempre peggio. Ho iniziato a chiedermi perché non funziona e me lo sono chiesto quando dal mio salone, dal mio negozio uscivano dei tagli oggettivamente perfetti, ma le persone però che entravano nel mio salone erano sempre meno, quindi c'era qualcosa che non funzionava e quello che non funzionava appunto era tutto il contorno, tutto quello che girava intorno al taglio di capelli, che il taglio di capelli è fino a se stesso alla fine, ma c'è altro per far funzionare un salone, un parrucchiere, un barbiere o quello che sia, è la pubblicità, il marketing appunto. E così per caso ho scoperto il metodo Michela Ferracuti e ci tengo a sottolineare questa parola qui perché il metodo la trovo una parola molto semplice come del resto è il metodo di Michela, penso che sia il sistema più semplice per farti arrivare ai risultati più difficili. Ho scoperto questo metodo, ho acquistato il suo libro, ho iniziato a leggerlo attentamente, questo libro che lo dico sempre quando parlo del suo libro appunto che per me è un manuale di istruzioni perché praticamente ti guida in maniera perfetta su come muoverti all'interno del tuo salone, su come fare marketing, su come appunto fare pubblicità nella maniera più semplice assoluta. Piano piano sono risalito, sono risalito, ho avuto e sto ottenendo ottimi risultati, intanto è vero che ho iniziato a fare formazione prima ad Orbetello, quindi nel mio paese e poi pian piano sto facendo formazione in tutta Italia. Fino a due mesi fa che mi è arrivata una chiamata appunto dalla Spagna per andare a fare i capelli ai giocatori della squadra del Villareal, quindi la Liga Spagnola, la Serie A spagnola. Sono andato a Villareal, ho fatto i capelli a diversi giocatori, anche alcuni italiani, uno in particolare Roberto Soriano, un ex nazionale, ha giocato nella Sampdoria. Tutto questo grazie a Michela Ferracudia, che io non smetterò mai comunque di ringraziarla. Sono stato negli Stati Uniti, sono stato ospite in un barbershop a Manhattan, sono stato ospite in California al Soits Barbershop e abbiamo dei progetti ancora molto importanti e ambiziosi che sicuramente porteremo avanti con successo come abbiamo fatto finora. Per cui consiglio a tutti di seguire il metodo di Michela Ferracuti perché credo e lo ripeto e non mi stancherò mai di dirlo che è il sistema più semplice per farvi arrivare ai risultati più ambiti. Detto questo vi saluto, vi abbraccio, ciao a tutti.